Ciao a tutti, questione Assange. Io iniziai a dedicarmi con forza al caso Assange quando, credo fosse, agosto 2012. Lessi sul blog di Beppe Grillo un pezzo scritto da Sergio di Cori Modigliani, magnifico, lo trovate online, intitolato Assange e il futuro del mondo. Tra l'altro è un titolo azzeccatissimo perché la questione Assange, la sua libertà, la sua prigionia, ha a che fare con il futuro del mondo, con il futuro delle democrazie. Della cosiddetta libertà di stampa, del diritto delle pubbliche opinioni mondiali, appunto, di essere informate per prendere delle decisioni più consapevoli. Insomma, da lì iniziai a dedicarmi tantissimo a questa vicenda. Quando veni eletto in Parlamento nel 2013, con un gruppo di miei colleghi deputati, andammo anche a trovarlo a Londra. In quel momento Assange si trovava come rifugiato, di fatto, all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Il presidente dell'Ecuador era Raffael Correa, uno dei presidenti che sostenevano l'Alba, l'Alleanza Bolivariana, un progetto sovranista in un certo senso. La parola sovranismo non è una brutta parola. Ovviamente se uno l'associa a Salvini, Meloni, a questa gente qua, chiaramente dà un'accezione negativa. Comunque era un gruppo di paesi che ha tentato, e tuttora tenta, con le volte risultati positivi, le volte risultati negativi di crescere nell'autonomia politica, economica e finanziaria. E Raffael Correa diede sostegno ad Assange, appunto consentì ad Assange di rifugiarsi all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador. E lo incontravamo nel 2013, parlavamo a lungo con lui. Assange stava bene, era entusiasta, convinto del lavoro appunto che lui, come gli altri attivisti di Wikileaks stavano facendo, aveva un mucchio di informazioni da pubblicare, che poi pubblicò nei mesi e negli anni successivi. In quel momento Assange aveva pubblicato a Wikileaks gli Afghan Warlocks, ovvero i documenti segreti sulla guerra in Afghanistan. Considerate che uno le dimentica le cose, perché poi veniamo presi sempre da miliardi di questioni ogni giorno, il telegiornale, nuove tragedie ovviamente, ma quella guerra in Afghanistan è l'esempio della costruzione falsa, mediatica, che è stata fatta intorno ad essa. Per anni ce l'hanno descritto come un intervento di successo quando già si sapeva che era una guerra persa. Poi è stata del tutto dimenticata, proprio perché vi erano delle problematiche, quindi non si parlava più di Afghanistan, un po' quello che è avvenuto, se ci pensate, negli ultimi mesi, perché poi la strategia è sempre la stessa rispetto alla guerra in Ucraina. Non si parlava più di Ucraina, non si è parlato più della strategia fallimentare della Nato, era tutto dimenticato. Adesso si ritorna a parlare di Ucraina e dell'invio di armi e del tentativo di arrivare alla sconfitta militare russa dopo appunto la morte di Navalny. Si utilizza politicamente la morte di Navalny per tentare di convincere coloro che sono sempre più scettici ad inviare armi. Ieri Biden ha dichiarato spero che il congresso approvi il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, spero che la morte di Navalny possa convincerli, cioè utilizzare strumentalmente questa tragedia della quale non sappiamo nulla, perché poi ci sono opposti complottismi. Il complottista che deve per forza sempre dare la colpa a Putin, poi tra l'altro per me, questa è responsabilità chiaramente del governo russo, colui che aveva maggiormente da perdere dalla morte di Navalny è senz'altro il Cremlino. E poi gli altri complottisti, quegli A, sono stati i servizi segreti americani ad ucciderlo per poi dare la colpa a Putin, cioè in realtà che non sappiamo nulla. L'unica certezza è che stanno utilizzando politici, establishment mediatico e politico, diciamo che fa riferimento al blocco occidentale, la morte di Navalny per poter appunto, quello che ha detto Biden ieri, convincere le pubbliche opinioni, o magari alcuni politici o congressisti americani o parlamentari europei. Continuiamo su questa strategia, quantomeno fino alle elezioni presidenziali americane, o alle future elezioni europee e appunto in Europa per sostenere Kiev, perché se dovesse crollare l'Ucraina prima delle presidenziali USA o prima degli europei, per noi tutti sarebbe una tragedia. Immaginate la campagna elettorale Trump-Biden con Biden che è costretto appunto a commentare un fallimento che è già in atto pochi giorni fa, anche Advivka è caduta in mano russa. Quindi, tornando alla guerra in Afghanistan, io cerco sempre di mostrare la strategia politico-mediatica e come determinate vergogne ci vengono mostrate e raccontate. Sapete perché Assange sta marciando in carcere? Da più di quattro anni a Belmarsh, che la chiamavano la Guantanamo britannica, una prigione di massima sicurezza che si trovava a pochi chilometri da Londra, e comunque ha perso la sua libertà appunto nel 2012, quando Sergio Di Cori Modigliani pubblicava quell'articolo sul blog, fondamentalmente perché ha avuto il coraggio di pubblicare tutta una serie di documenti che hanno svelato le balle, le fake news, le menzogne, la narrazione manipolatoria rispetto alla guerra in Afghanistan o alla guerra in Iraq, mentre erano in atto le guerre stesse, non 30-40 anni dopo. Noi oggi possiamo tranquillamente parlare dei colpi di Stato della CIA in Guatemala contro Jacopo Arbenz, o del colpo di Stato CIA e Servizi Segreti Britannici contro Mossadegh in Iran, per evitare che fosse nazionalizzata l'industria petrolifera iraniana. Possiamo raccontare oggi evidentemente delle questioni relative a quel che avvenne a Salvador Allende. Tante cose oggi sono di dominio pubblico. Pensate agli ecidi commessi dall'esercito americano in Vietnam, alla strage di Milai, sono tanti gli esempi. Oggi è possibile parlarne tranquillamente. Era invece assolutamente da evitare, per coloro che chiaramente stavano portando avanti quelle ignobili guerre, guerre di invasione mascherate alle missioni di pace, che si parlasse delle menzogne, delle bugie, dei morti civili, della presenza di unità segrete che operavano in Afghanistan, mentre le guerre erano in atto. Quello è stato il, come dire, per questo Assange andava colpito. E poi soprattutto andava colpito per lanciare un messaggio a tutti gli altri giornalisti del mondo. E occhio che se un domani anche voi doveste arrivare in possesso di documenti scottanti, occhio a pubblicarli, altrimenti fate la fine di Assange. Per questo io ho scritto un monologo intitolato Assange colpirne uno per educarne 100. L'obiettivo è questo. L'obiettivo è stato di fatto raggiunto. Oggi possiamo ricordare Assange e sostenere la sua battaglia, essenzialmente ricordando quel che Assange e Wikileaks ci hanno fatto sapere e mettere in relazione quel che ci hanno fatto sapere sulla guerra in Afghanistan, sulla guerra in Iraq, sulla guerra in Libia, sul Cable Gate, sulle mail di Larry Clinton, sull'intercettazione e controllo di massa effettuato dai servizi segreti americani, in particolare la National Security Agency. Ecco, porre tutte queste notizie vere, mai smentite, tant'è vogliono distruggere Assange e lo stanno distruggendo e l'hanno già distrutto, non potendo negare tutto quel che ci ha permesso di sapere. Ecco, porre in relazione tutto questo con l'attualità, con la guerra in Ucraina, con il complesso militare industriale e finanziario e come agisce oggi, gli interessi segreti dietro all'invio di armi a Kiev, gli interessi segreti dietro questa strategia americana pubblicamente, Netanyahu va a Cipiano ma continua ad armare Netanyahu, cioè capire, leggere il presente anche grazie alle informazioni che ci hanno permesso di essere più autonomi e che ci ha fornito Assange, ci ha fornito Wikileaks. Questo per me è il modo migliore per ossequiare Julian Assange al quale già hanno rovinato la vita. Io cosa avverrà? Io non lo so. Oggi e domani due giudici, ci sarà un'udienza, e due giudici britannici decideranno se gli avvocati di Assange potranno o meno rivolgersi in appello per tentare di ribaltare la sentenza che ha dato praticamente l'ha definitivo alle estradizioni di Assange negli Stati Uniti d'America da parte dell'alta corte britannica. Dunque, diciamo, la giustizia britannica ha già dato l'ok definitivo di fatto alle estradizioni di Assange, tuttavia gli avvocati di Assange hanno fatto un ricorso per chiedere la possibilità di ricorrere in appello. Oggi e domani ci saranno le udienze, non so quando questi due giudici si esprimeranno, ad ogni modo, se dovessero rigettare questa richiesta degli avvocati, l'estradizioni sarà non soltanto definitiva, ma anche, come dire, si potrà attuare nel giro di pochi giorni. In quel caso sicuramente gli avvocati di Assange si rivolgeranno alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, magari non avranno tempo perché Assange già verrà estradato. Se invece dovessero consentire ad Assange di rivolgersi di nuovo alla Corte d'Appello britannica, Assange si rivolgerà alla Corte d'Appello britannica per tentare appunto di ribaltare la sentenza che ha dato l'ok all'estradizione di Assange. Vedremo. Non so davvero quel che accadrà. Io, ragionando un pochino, oggi conosco, dopo tanti anni di studio, determinati meccanismi mediatici, soprattutto quando ci si avvicina alle elezioni e ai politici. Se io fossi Biden, o meglio, i consiglieri di Biden, coloro che gli danno dei suggerimenti, non è sempre facile perché Biden non è una persona lucida, si vede, no? Non è in condizioni psicofisiche, ma comanda qualcun altro in America. A proposito di grande democrazia, si parla di democrazia, in America non comanda il presidente degli Stati Uniti d'America, comanda quel complesso militare e industriale, oggi anche finanziario, un'espressione coniata da Eisenhower quando lasciò la Casa Bianca, credo fosse il 1963. Ecco, se io fossi uno dei consiglieri di Biden, gli suggerirei di graziare Assange per poi poter dire, insomma, utilizzare questo argomento in campagna elettorale, poter affermare davanti agli occhi del mondo, ovviamente sapendo che la propaganda filoamericana senz'altro si impegnerebbe per diffondere questo messaggio, dare questo segnale. Mentre in Russia fanno morire Navalny, o addirittura lo uccidono all'interno delle pregioni, nell'Artico, nella regione degli Urali sull'Artico, noi graziamo Giro Massage. Dunque questa è l'enorme differenza tra la democrazia e l'autocrazia. Io questo farei, perché sarebbe un messaggio senz'altro forte, un messaggio falso, perché l'hanno fatto già a Marciere in carcere. Leggevo l'intervista della moglie di Stella Assange, Assange ha avuto un microinfarto, è depresso, è dimagrito moltissimo. Ma immaginate, no? Lui nel 2012, quando la Corte Britannica dà l'ok alle stradizioni di Assange in Svezia, in quanto accusato di stupro e violenze sessuali, e moleste sessuali, Assange non solo non è mai stato processato per stupro e moleste sessuali, non è stato, scusate, non solo non è mai stato condannato, nemmeno è mai stato processato. Perché Assange non è mai stato uno stupratore. Fake news, tirata fuori appunto per distruggerlo, in un momento in cui era opportuno per l'establishment politico e mediatico del blocco occidentale, evitare di parlare delle cose che Assange ci ha fatto conoscere, ma parlare di lui, tentando di delegittimarlo in ogni modo. Stupratore. Nel 2012 appunto venne data l'ok da parte della Corte Britannica delle stradizioni, in quel caso in Svezia, e in quel momento Assange si rifugge appunto nell'ambasciata dell'Equador a Londra quando presidente era Rafael Correa. Sette anni c'è stato lì dentro. Sette anni più di quattro anni appunto a Belmarsh. Sono undici anni che Assange non può lavorare normalmente. I primi anni all'interno dell'ambasciata ha potuto lavorare, Wikileaks ha pubblicato altri lavori, ha sfornato altri scoop, poi non ha più potuto fare. E ora è quattro anni che è in isolamento, tra l'altro a coloro che... Oggi c'è un bellissimo articolo di Marco Travagli sul fatto che si chiama Targa Alterna, poi ve ne leggo una parte, a coloro che si indignano giustamente rispetto a determinati casi. Ultimo è Navalny che, ripeto, viene utilizzato in maniera strumentale per continuare a dire avete visto? Putin l'ha velenato, Putin è l'assassino senza alcuna prova, dunque continuiamo a mandare armi perché non si può trattare con Putin. Il tutto in un momento, ripeto, durante il quale ieri leggevo delle dichiarazioni del ministro degli esteri polacco allarmanti rispetto all'inizio di una... Possibile, poi non so se questo avverrà, nuova offensiva russa nella zona di Zaporizia dopo che i russi appunto hanno conquistato Avivka. L'ho ricordato anche nella diretta di ieri, le tre grandi battaglie, se escludiamo chiaramente i primi mesi di guerra in cui è evidente che l'esercito russo ha commesso una serie di errori, pensava che tutto sarebbe stato facile e compagnia cantante, le tre grandi battaglie, ovvero Mariupol, Bakhmut e Avivka, sono stati tre successi russi alla fine. Nonostante un invio di armi massiccia da parte occidentale, un sossegno finanziario a Kiev sconvolgente, nonostante tutto questo appunto, i russi stanno vincendo la guerra, anche perché quel che manca soprattutto oggi agli ucraini sono gli uomini, tant'è che Zalushnik, poi è stato silurato da Zelensky, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, alcune settimane fa appunto ha chiesto nuovi 500.000 uomini. Cioè la tragedia è enorme, quindi utilizzare Navalny per continuare a portare avanti questa strategia che sta causando distruzione, morti, soprattutto negli ultimi mesi morti ucraine, e proprio per me è un atteggiamento politicamente criminale. Tornando appunto ad Assange, come vi dicevo io ci ho scritto un monologo, perché la sua libertà, la sua prigionia, quel che è avvenuto appunto ad Assange è legato al diritto nostro appunto di conoscere determinate vicende e soprattutto, ripeto, e su questo dobbiamo insistere, grazie ad Assange abbiamo una serie di strumenti che dobbiamo ricordare, dobbiamo nutrire, che ci permettono di interpretare non soltanto il passato, sul quale chiaramente Wikileaks è intervenuta e Wikileaks continua chiaramente a intervenire anche rispetto alle vicende di oggi, ma appunto il presente. È grazie a quello che abbiamo saputo, grazie ad Assange e a Wikileaks, che possiamo comprendere quel che sta accadendo oggi in Ucraina, Gaza, in tante altre parti del mondo. Il futuro del mondo, appunto, per citare Sergio Di Cori Modigliani. Per questo mi sono così tanto appassionato alla vicenda e ci ho lavorato tanto, ho scritto tanti articoli, ho fatto tante dirette, ogni qualvolta avevo la possibilità, anche in televisione, come oggi sto facendo da diversi mesi, sul tema Palestina, sul massacro, sul tentativo di pulizia etnica da parte israeliana a Gaza, appena avevo la possibilità, parlavo di Assange e poi ho scritto questo monologo frutto di mesi e mesi di studi. Tra l'altro, giustamente, vi dico quando ci sarà. Io venerdì prossimo, venerdì 23 febbraio, sarò ad Alessandria, al Teatro Alessandrino, poi il 16 marzo a Potenza, il 20 marzo a Perugia, il 5 aprile a Reggio Emilia, il 6 aprile a Napoli, il 27 aprile a Bari, il 4 maggio a Pescara, il 9 maggio a Torino, il 10 maggio a Roma, il 17 maggio a Trieste. Queste sono le prossime date, appunto, del mio monologo. Ed è un monologo che ripercorre tutta la vicenda giudiziaria e ripeto, tutte le cose che sappiamo grazie ad Assange per tentare, appunto, di fornire degli elementi per interpretare il presente. Vi volevo leggere due cose. Una è una dichiarazione della moglie di Assange, Stella, di alcuni mesi fa. Oggi ci troviamo in una situazione molto pericolosa. La guerra non è solo un campo di battaglia per le armi, ma anche per l'informazione. Julian è stato messo in prigione per aver pubblicato notizie vere su una guerra impopolare, come era quella in Iraq, dove le forze di occupazione americane controllavano totalmente la narrazione dei fatti. Ma secondo voi oggi non controllano, quantomeno qui, totalmente, o quasi totalmente, la narrazione dei fatti rispetto all'Ucraina o rispetto a Gaza, le forze di occupazione americane e le forze di occupazione americane in riferimento all'Iraq o all'Afghanistan prima del ritiro e oggi le forze di occupazione israeliane sono forze di occupazione in Cisgiordania e di fatto anche a Gaza non controllano l'informazione a gran parte dell'informazione. E poi appunto per tornare al tema del doppio standard, anche per questo è importante parlare di Assange. Qualcuno mi ha scritto ah ma tu non hai parlato di Navalny, a parte ripeto ho fatto un video ieri e non ho parlato anche adesso. Io come mia scelta cerco sempre di parlare di cose, di informarmi su cose che l'establishment mediatico tende sempre invece a nascondere. Per questo mi sono dedicato alla questione Assange, per questo ben prima del 7 ottobre mi sono dedicato al conflitto israeli-palestinese, alla questione palestinese, ai diritti violati dei palestinesi, questo ben prima del 7 ottobre e ripeto tutti i martedì da Floris tentavo sempre di parlarne, sfruttare quello spazio mediatico, quel tempo per poter ricordare quel che appunto avveniva, che tuttora avviene e avverrà ancora in Palestina. Per questo sono andato a visitare i campi profughi palestinesi in Libano, dove oggi Israele bombarda, Israele sta bombardando anche il Libano in maniera criminale, proprio perché una serie di questioni quando finiscono nell'oblio mediatico per me diventano più interessanti, anche perché sono sempre dell'idea che più finiscono nell'oblio mediatico e più evidentemente vi è dietro una strategia per far sì che ciò avvenga. Come la guerra in Afghanistan, ripeto, prima un intervento fatto per sconfiggere il terrorismo dei talebani, non ci entrava niente, la scusa del terrorismo l'hanno utilizzata in Afghanistan, in Iraq, in Libia, quando appunto la Clinton disse ci sarà un rafforzamento di Al-Qaeda con Gheddafi, dobbiamo buttare giù Gheddafi, invece è l'esatto contrario, di Gheddafi si può dire di tutto, certo, non era un santo, ma non era legato ad Al-Qaeda, anzi, e anche si è citato la questione del terrorismo anche rispetto alla guerra in Ucraina, il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che definisce la Russia paese parte del terrorismo, diciamo, amico del terrorismo, come oggi la scusa del terrorismo dobbiamo sconfiggere Hamas e il terrorismo tutte scenenze, queste sono fake news, l'obiettivo è cacciare i palestinesi, dunque quando determinate questioni prima vengono trattate in un determinato modo, tornando ad Afghanistan, lotta al terrorismo, poi lotta per i diritti umani, il burga, cioè, non gliene fregava niente del burga, dei diritti delle donne, tant'è che oggi non ne parla praticamente più nessuno dei diritti delle donne afghaniche, stanno probabilmente peggio di vent'anni fa, dopo una guerra, i talebani sono tuttora al potere più forti politicamente perché hanno di fatto vinto la guerra e anche più armati perché il blocco occidentale ha lasciato tutta una serie di armi sul campo, poi, dopo che questa narrazione evidentemente non attecchiva più, la guerra in Afghanistan è passata nel dimenticatoio, quando ero in Parlamento scrisse insieme ai miei colleghi una mozione sul ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan, mi dedicai sempre alla questione Afghanistan, feci interventi in aula, appunto, ho sempre pensato che quando le questioni iniziavano a diventare sotto traccia o venivano messe sotto il tappeto evidentemente dovevano essere di nuovo illuminate, questo è stato il ragionamento che ho fatto e per questo io mi dedico maggiormente alla questione Assange rispetto ad altre questioni, guardate, sul Navalny tutti i telegiornali, tutti i giornali Repubblica i primi 20 o 25 articoli li ha dedicati, parlo dell'edizione online a Navalny, il tutto, ripeto, per me con una funzione strumentale e ci arrivo. Io invece ho interesse ad approfondire delle cose che appunto finiscono nel dimenticatoio. Vi dicevo e concludo, leggetevi l'editoriale di travaglio di oggi a Targa Alterne equilibrato e coraggioso e quando io in passato ritenevo fosse giusto criticare travaglio l'ho sempre fatto, abbiamo avuto anche qualche scazzo, qualcuno se lo ricorderà, però veramente soprattutto sul tema politica estera, soprattutto sul tema guerra in Ucraina oltre ad essere molto informato ha molto coraggio, vi leggo una parte, la parte conclusiva del suo editoriale, ogni paese democratico o autocratico ha i suoi cadavere eccellenti in cerca d'autore, pensiamo all'Italia, quanti cadavere eccellenti in cerca d'autore appunto abbiamo, ed è curioso che chi denuncia complottismi altrui ci si tuffi a pesce solo con la Russia e poi si taccia sui 30.000 civili ammazzati in Ateneo a Gaza o su Assange arrestato e torturato psicologicamente dal Regno Unito per conto degli Stati Uniti per il delitto di giornalismo o sulla Dugina fatta esplodere in un'autobomba a Mosca dai servizi di Zelensky solo perché è figlio di un filosofo putiniano o su Gonzalo Lira ne ho parlato proprio ieri il blogger cileno con cittadinanza USA arrestato in Ucraina perché ne criticava il regime malato ma è curato e morto in carcere senza uno straccio di protesta morti di serie A e morti di serie B il fatto poi che persino la fiaccolata per ricordare giustamente Navalny oppositore coraggioso al di là delle idee xenofobe e fascistoiche che in Italia avrebbero portati in carcere per istigazione e il regime in base alla legge Mancino una roba che ha il coraggio di ricordare diventi uno spot per spedire altre armi a Kiev e far ammazzare altre migliaia di Ucraina e autorizza i peggiori sospetti ma li lasciamo volentieri con protisti un tanto al chilo garantisti a targhe alterne e concludo dicendovi che la questione Assange un grande giornalista che ha vinto tanti premi giornalistici e che sta marcendo in carcere perché ha avuto il coraggio di darci notizie vere e di pubblico interesse è una questione che ci tocca o ci dovrebbe toccare intimamente perché ripeto il modo migliore oggi che abbiamo per sostenere Assange che magari riceverà la grazia chi lo sa me lo lavoro con tutto il cuore con tutto il cuore l'idea di l'immagine che ho in testa è Assange che abbraccia i figli che sono nati praticamente non l'hanno visto soltanto dietro un vetro spesso il modo migliore che abbiamo per sostenere Assange è ricordare quel che lui e Wikileaks ci hanno fatto sapere e fare dei collegamenti e collegare le informazioni che ci hanno permesso di conoscere a quel che sta avvenendo oggi nelle nostre vite nella nostra società nel mondo intero questo è il modo migliore appunto per sostenere Assange un grande giornalista che rischia appunto 175 anni di carcere se dovesse essere stradato negli Stati Uniti d'America per aver fatto il mestiere lui di giornalista grazie a tutti grazie a tutti